Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. In questo video andremo a vedere lo Structure Deck, attenzione alla trappolatrice. Come sicuramente avrete visto dagli shorts, vero? L'avete visto, vero? Bravi. Ho comprato questo Structure Deck su Fantasia Store insieme ad altre cose e, mi raccomando, andate a vedere quello short per vedere tutte le altre cose che ho comprato, perché ci sono diverse altre cose interessanti. Ho voluto prendere anche una copia del deck trappolatrice, perché l'ho visto dal Supremo, anzi dal Faraone, nei video in cui si parla di Yu-Gi-Oh! lui è il Faraone, l'ho visto dal Faraone e mi è piaciuto molto, come si gioca, mi è sembrato molto forte, e quindi ho voluto prendere una copia. Poi ne prenderò magari anche un'altra e qualche altra carta, in modo da avere tre copie delle carte che mi servono e due mazzi uguali, così posso crearmi per bene un deck forte. Intanto comunque andiamo a vederlo, poi devo leggermi tutti gli effetti, eccetera, quindi poi capirò anche tutte le strategie. Comunque intanto andiamo a vedere il deck. Intanto vediamo com'è l'immagine davanti, 25esimo anniversario, Structure Deck, attenzione alla trappolatrice, molto bellino. Anche gli artwork sembrano molto belli, tutti qua sul rosa con questi quadratini lateralmente, è così, sopra, vabbè, Yu-Gi-Oh! di lato, così, sotto, è così, e dietro c'è tutta questa parte qua. È una trappolatrice. Le trappolatrice possono sembrare graziose a prima vista, ma se ti avvicini troppo ti divoreranno tutto intero. Queste piante, insetti, carnivori sono sempre a caccia dei mostri del tuo avversario. Per prima cosa i mostri trappolatrice ti aiuteranno a posizionare potenti carte trappola buco, capaci di far cadere i mostri dell'avversario direttamente fuori dal duello. Poi si raduneranno per banchettare con i life points del tuo avversario. Questo Structure Deck contiene una vasta gamma di utili carte trappola che potrà utilizzare per potenziare qualsiasi deck. E poi questo Structure Deck contiene 40 carte comuni, 3 carte super rare, 5 carte ultra rare e un foglio con un tappetino da gioco deluxe su un lato e una guida del duellante sull'altro lato, con suggerimenti per eseguire la strategia perfetta. Quindi questa è la lista delle carte. Se vi interessa leggerla, io adesso non ve la andrò a leggere per bene perché voglio anche gustarmele. E poi si vedono meglio, diciamo, sfogliandole. I nomi magari manco riconosco alcuni. Bellino anche quest'artwork qua. Comunque, dai, molto bellina la confezione. Adesso andiamo ad aprirlo da sotto perché sempre sotto consiglio del faraone perché almeno non si rovina troppo la parte sopra. Sembra anche abbastanza facile da aprire, eh? Sì, verrà abbastanza facile da aprire, meglio così. Allora, qua abbiamo il deck e vediamo già trappolatrice pudica lì sopra. E poi qua, ah, bellissimo questo. Questo è il playmat. Guardate un po', che bello che è. Veramente tanta tanta roba. Con le trappolatrice principali che vediamo anche qua sopra. Eccole qua. Guardate che meraviglia che è questo playmat. Veramente bello bello. E dietro, ragazzi, abbiamo tutte le strategie qua. Le varie strategie da usare, queste poi me le leggerò con calma. Qua altri consigli di carte da aggiungere o di espansioni da comprare. E poi qua la storia delle trappolatrice. Ricerca su trappolatrice. Le creature carnivore. Bellissimo. È la prima volta che vedo una storia sul, diciamo, sul retro. Perché so che c'è anche sul playmat di Albaz, del deck Albaz. Però non l'ho preso, io so solo che c'è, però ancora non l'ho preso. Quindi, diciamo, è la prima volta che vedo, appunto, la storia di un mazzo sul retro. Bellissima. Questa qua poi me la andrò a leggere. Intanto, comunque, il retro è così e il davanti è così. Bellissimo. E adesso, ragazzi, andiamo a vedere il mazzo. Allora, si apre da qua davanti. Mi sembra di aver visto... Eccolo qua. Il cosino per levare tutto. Ecco qua. E staccati. Ovvia. Allora. Leviamo la plastica. Andiamo a vedere il mazzo. Ragazzi, sono veramente tanto, tanto curioso. So che ci sono, tipo, sia Xyz che Link. Comunque, andiamo a vederle per bene. Trappolatrice Pudica. Bellina, ultra rara. Giardino Trappolatur. Una carta magia terreno ultra rara. Sintonia Trappolatricante. Bella. Molto bella. Trappolatrice Pinguicula. Ecco qua uno dei due mostri che c'è, vedete, sull'artwork del Playmat e della confezione. Ed è questa qua. Trappolatrice, sì, Pinguicula. Difficili da pronunciare. Ed è un mostro Xyz. Poi, Trappolatrice Atipus, che è quest'altro mostro qua, un mostro Link. Quindi questi due sono i mostri principali. Eccoli qua, uno e due. Non vedo l'ora di usarli. Poi, ragazzi, fidatevi qua, magari sembrano debole a vedere il livello e i punti di attacco e di difesa, però fidatevi che gli effetti sono proprio rotti. Trappolatrice Arachnociampa. Scontro ad armi pari. Queste qua sono le super rare. E Trappolatrice Bucolutea. Le super rare. Quindi abbiamo 5 ultra rare, sì, 5 ultra rare e 3 super rare, come avevamo visto sul retro della confezione. Poi abbiamo Trappolatrice Atrax. Poi, ragazzi, quando mi leggerò tutti gli effetti vedrò che giocate fare. Trappolatrice Atrax. Trappolatrice Mirmeleo. Trappolatrice Nepenthes. Trappolatrice Dionaea. Questa qua, in realtà, ce l'avevo già. È l'unica carta, diciamo, trappolatrice che avevo. Ho, tipo, già altre due copie, quindi questa siamo a posto. Trappolatrice Genlisea. Trappolatrice Vesciculo. Gadarla, il Kaiju Polvere di Mistero. Anche questa dovrà averla già. Humongous, il Kaiju Filo Appiccicoso. Contraattaccante C. Insetto Risonanza. Bocciolo di Fuoco Solitario. Fioritura di Cenere Gioiosa Primavera. Ash, bisogna sempre averla. Amante Rosa. Saggio dei Fiori. Mech Cavaliere Crepuscolo Viola. Mech Cavaliere Cielo Blu. Artefatto Moral Tac. Anche di carte artefatto, no, diverse. In realtà, ora che ci penso. Mano di Fuoco. Mano di Ghiaccio. Ovvio. Mano di Tuono. Ovvio. Raigechi. Cioè, trovare Raigechi in uno Structure Deck, ragazzi, veramente perfetto. Meglio di così. Spolverino dell'Arpia, poi. Cioè, proprio per distruggere tutti i mostri e tutte le magie trappola. Cioè, proprio perfetto. Due sole carte magia? Vabbè, più due all'inizio, sì. Un Giardino Trappolatur e quell'altra. Sì, sì, sì. Cinque, no, quattro carte magia. Pochine, però dai, vabbè. Poi, Incubo, Buco, Trappola, Terrificante. Buco, Trappola. Qua ci sono tutte le carte buco. Buco, Trappola, Senza Fine. Doppia copia di Buco, Trappola, Senza Fine. Buco, Trappola, Vuoto. Buco, Trappola, Incubo, Trappolatrice. Doppia copia. Buco, Trappola, Chiusa. Buco, Trappola, Dello Scavatombe. Trucco, Trappola. I Cavaliari Fantasma dell'Ombra Brigantina. Artefatto Rifugio. Naturia, l'Albero Sacro. E poi abbiamo altre Trappolatrice Xis. Trappolatrice Rafflesia, o Rafflesia, non ho idea di come si chiami. Trappolatrice Allomerus, o Allomerus, non lo so. Poi, Trappolatrice Cularia per le Link. E Trappolatrice Seras, era boh, sempre per le Link. E in fondo, Trappolatrice Mantis, che non si sa perché sia qua in fondo. Come mai è qua? Boh, non si sa. A caso, è qui. Boh, ragazzi, è pure una carta normalissima, perché in fondo? Boh, vabbè. Poi abbiamo queste carte qua che avevamo anche nel deck Bestia Cristallo. Se non avete visto l'unboxing dello Structure Deck Bestia Cristallo, andatela a vedere, perché è molto molto forte. Ve lo lascio con alto a destra. Ipernova Fotonica. Vabbè, questa cosa qua. Structure Deck Trappolatrice. Bene, ragazzi, direi che questo era il mazzo. Direi per niente male. Sembra davvero molto molto interessante, soprattutto la parte delle Trappolatrice. Poi, vi ripeto ragazzi, ovviamente poi mi leggerò tutti gli effetti, vedrò come farmi il mazzo, anche perché mi prenderò un altro di questi Structure Deck Trappolatrice, per farmi appunto un mazzo migliore. Perché mi sa che molte carte andranno levate, poi non lo so, eh, quando leggerò gli effetti capirò se qualche carta non trappolatrice, diciamo, può stare bene in questo mazzo. Ora comunque le scorriamo velocemente e vediamo i due mostri principali. Guardate che belli, molto belli. E appunto vedrò se è il caso di prendersi tipo altre carte. Ad esempio queste qua, vedete, sono tutte trappolatrice. Ve le riscorro velocemente per farle vedere. Però queste qua non sono più trappolatrice, sono diverse. Tipo queste qua, Ash, vabbè, Ash andrà tenuta. Però tipo Cavaliere del Cielo Blu, Crepuscolo Viola, l'Artefatto, o Mano di Fuoco, Mano di Ghiaccio e Mano di Tuono, magari queste qua non servono. Cioè gli artefatti e queste mani qua magari non servono. Poi non lo so, eh, devo vedermi appunto gli effetti. Però magari non servono. Quindi leverò quelle lì e metterò più copie di alcune trappolatrice. Poi queste carte qua, alcune sono già in doppia copia, quindi ottimo così. E ragazzi, che dire, io penso che prendere un altro Structure Deck basti. Se non dovesse bastare per farlo al top, al massimo mi ordino qualche altra carta, ma non mi sto a prendere tre Structure Deck. Cioè ne ho già preso una, al massimo prenderò il secondo e poi basta. Comunque sì ragazzi, queste qua sono le carte. Bellissime. Tanta tanta roba. Ora ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo deck. Se ce l'avete, se lo usate, se vi piace comunque come mazzo, se vi sembra forte, se ve lo siete mai ritrovato contro. Fatemi un po' sapere ciò che sapete voi su questo mazzo, i vostri pareri, eccetera. Scrivetemi anche che mazzo usate. E io ragazzi, come sempre, vi ricordo, se volete vedere i miei mazzi, innanzitutto fatemi sapere nei commenti. Così magari poi vi faccio un video dove vi mostro i miei mazzi, anche gli ultimi che mi sono fatto. E poi ragazzi, se vi siete persi il video in cui apro questo starter set per due giocatori, anche questo l'ho ordinato da Fantasia Store, andatelo a vedere e lo trovate in alto a destra. Perché veramente anche qua ci sono carte molto molto interessanti e questo starter set è davvero ottimo per iniziare a giocare, quindi ve lo straconsiglio a tutti. Detto questo ragazzi, vi ricordo come sempre di lasciare like, commentare, condividere e iscrivervi al canale. Passate da Instagram e TikTok e trovate sempre in descrizione o qua nella schermata. E niente ragazzi, detto questo io vi ringrazio per aver visto il video, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!